buongiorno a tutti con questo video andremo a vedere come preparare due cappuccini freddi senza l'utilizzo di attrezzature particolari in manco l'utilizzo solamente della nostra macchina all'espresso quindi partiamo con il primo andiamo ad aggiungere ghiaccio nel nostro bicchiere semplicemente rovesciamo latte freddo all'incirca fino a tre quarti e versiamo all'interno direttamente un espresso possiamo utilizzare in questo caso come in tutti quanti gli altri drink che andremo a vedere qualsiasi tipo di latte quindi che sia vaccino oppure anche vegetale l'altro drink prendiamo un altro bicchiere versiamo sempre il nostro ghiaccio sempre fino a in cattacombi versiamo il latte ecco qua abbiamo montato un po' di latte con la nostra macchina ad espresso ed andiamo ad aggiungere sopra il nostro latte freddo la crema di latte caldo in questo modo aiutandoci con un chiaino ecco qua facciamo una bella base di crema calda e a questo punto andiamo a prendere un altro nostro espresso e lo verseremo direttamente sopra possiamo volendo arricchire la nostra bevanda con del cacao di polvere in questo modo qua questi sono i nostri due cappuccini freddi senza attrezzature particolari semplicemente utilizzando la nostra macchina caffè